E' buono qui. Però se cominci così... Ciao a tutti qualunque di Double Clutch per il nostro Q&A Live. Ciao Francesco. Ciao Luca, martedì ore 19, Q&A Live. Ci siamo. Oggi potrebbe essere che se va tutto bene c'è anche il podcast. Grande, il grande ritorno. Il podcast manca da un mesetto quasi. Eh, manca da un bel po'. Tra le feste, i problemi col microfono. Però oggi direi che nonostante il fatto che qua c'è sempre un sacco da fare, un sacco da lavorare, io sono appena rientrato in ufficio, siamo comunque carichi. Sì. Perché ci sono dei belli argomenti. Ci sono dei belli argomenti di cui parlare. Sarà anche per il fatto che forse Nike ricomincerà a spedirci le scarpe? Ma, così sembra. Così sembra. E vabbè, ne parleremo dopo di questo. Adesso partiamo con la prima domanda che rincana. Allora, la prima domanda, la prima è una di quelle più fatte, sia la settimana scorsa che questa, è proprio sulle nuove signature show di Paul George. Grande, beh, ce la potevamo aspettare visto che la roccata una settimana fa ormai dovrebbe essere stato nel weekend, forse prima del weekend. Mi sono perso gli elanze dei Clippers. Ha messo, tra l'altro, la colorazione blu e rossa, che ancora non si è capito se uscirà, quando uscirà. Ad oggi abbiamo visto, e sappiamo di per certo, che uscirà la Black White, che tutti abbiamo visto con i primi leaks, insomma, che esce il 24 di gennaio. Attenzione, attenzione, noi ce l'abbiamo. Ci siamo, siamo on fire. E poi c'è una Gatorade. 17 gennaio? Può essere? Eh no, eh no. Sarà 27. Sarà 27? Perché non è giusto che esca prima della Black. Però, in effetti, bravo Francesco, perché la Pre-Heat, di solito, che è la colorazione un po' più particolare, esce prima della colorazione Black White. Qualcuno qua già dice che esce il 17. Ecco, allora, probabilmente uscirà il 17. Però, non sono convinto di averlo, allora, se è quella del 17. Ah. Io mi sono preparato, allora, sapete che con Nike è sempre un po' tutto particolare, un po' tutto strano. Soprattutto in questo periodo, dove ci sono stati dei cambiamenti belli grossi, e quindi, diciamo che non abbiamo capito bene come stiano funzionando questi Pre-Heat, questi Quick-Strike. Ci sta guardando anche Fedelovski, tra l'altro, nell'acquisto dell'Alte Zenis, non vediamo l'ora di vederlo. Ho sentito che, allora, non ha giocato, non poteva probabilmente, però in teoria dovrebbe partire domani a giocare per noi, domani sera, in casa, se non sbaglio. Si gioca domani? Eh sì, giochiamo domani. Non ci sarà. Cazzo, mi sa che non ci sono neanche io. Vabbè, comunque, tu dove sarai, Francesco, che te la tiri, eh? Un po' distante. A Los Angeles, pezzo di merda, eh. Ha giocato, dice Fedelovski, allora siamo due stronzi. Come hai giocato, cazzo? Eh, non l'ho visto, ho visto gli highlights. Che figura di merda questa. No, che avete vinto lo sappiamo. Oh, adesso va bene tutto. Quello sì, di poco però, occhio. No, non è vero che ho visto gli highlights, non è vero, assolutamente. Hai visto la settimana... Esatto, l'ho visto la settimana prima, quindi figura di... figura barbina. Sì, due stronzi sì, però calmo, perché a ping pong ti aveva andato una ripassata quella volta. No, ha vinto lui contro di me. No, contro di me no. Forse sì, un po' no, un po' sì. Comunque è stata una bella partita e ha finalmente trovato qualcuno alla sua altezza. Salutiamo Fedelovski e Joe. Detto questo, famiglia oserei dire. Famiglia, sì. Detto questo, altre cose che avevamo in canna. Parlavamo prima, posso saltare... Ma guarda, vai tranquillo. Ah vabbè, il discorso PG4 comunque secondo me è scarpa figa, molto confortevole, ma tanti di voi l'hanno già detto. Da capire la zip, come sarà. Chiudiamo questo discorso e parliamo di una cosa di cui volevo parlare io. Nick Melli, visto che ne abbiamo parlato prima con Francesco. Vado a trovare la domanda che c'è, perché c'era. Allora, mentre la trovi, dimmi cosa ne pensi tu. Ma allora, si parlava prima in negozio del fatto che era un po' strano che questo giocatore non giocasse. Cioè Nick comunque arriva che non è un giovane che ha 20 anni, arriva dopo aver vinto di tutto in Europa. E arrivare lì e non giocare per lui sarebbe stato sicuramente molto difficile, ma anche da fuori... Che all'inizio ha giocato. Esatto, all'inizio ha giocato, poi Zainos ha fatto male, poi è stato dimenticato in panchina, giocava a pochi minuti, poi proprio zero. E ieri è entrato in quintetto, ha giocato un sacco, ha fatto quello che doveva fare. Ha fatto... A volte sono delle dinamiche in via che forse noi facciamo fatica a comprendere, non so. Se non sbaglio, tra l'altro mi sono sparato la storia stamattina di guardare bene il tabellino, perché non guardo sempre tutte le cifre, ma 37 minuti, 20 punti, 60% dal campo. Sì, 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 era molto alto, molto alto. E ha fatto non solo tiri facilissimi da sotto, eccetera, comunque ha fatto... Solo Jackson Hayes mi sa che ha fatto una percentuale di tiri migliore di lui, che è ovviamente un lungo, quindi avrà fatto penetrazione e appoggi a... Certo, tra l'altro anche Gallo credo che abbia fatto tipo 30. 30 punti, ma non ho visto gli highlights di OKC. Nemmeno io. Perché prima in pausa pranzo, facendo allenamento, mi sono guardato la partita di Orlando contro Sacramente. Una partita infelice, ma ho detto, devo guardarli prima o poi. Cerco di... Avendo League Pass, grande League Pass, figata, fatevelo tutti una figata. Mi sono, ho detto, devo guardarmi almeno una volta tutte le scuole NBA. E è stato figo perché Nemania Bielizza, che secondo me, volevo dirti da dire a tutti quelli del Primero, assomiglia molto al presidente Testi. Secondo me è uguale. Anche il tiro, il portamento, ci siamo. Nemania ha fatto il suo record a carriera ai, mi pare, 32 punti, 33 punti. Bielizza classe di Matteo Testi comunque. È classe... È classe insieme, sì. Grande. Allora, andiamo un po' avanti. Vai. Molti ti chiedono, prossima uscita è Jordan? C'è anche la questione Jordan 34, nel senso che dopo qualche colorazione non ne sono più uscite. Non è uscito nulla. Ma giovedì dovrebbe arrivare una colorazione... Una colorazione che è Black Silver, non mi ricordo, non l'ho vista, mi sono un po' perso. Qualcosa tipo Pearl, che comunque qualcosa di Iridescent dietro, chiara, molto bella secondo me. L'altro giorno, tra l'altro, ho venduto un paio a un ragazzo che non ha preso la Solar Red perché era troppo sgargiante. Ok. Io ho trattenuto un po' le eresie perché confronto alla Total Black, la Solar Red è troppo figa ragazzi, cioè è incredibile. Comunque, Jordan 34 ne arriveranno altre, non vi preoccupate. Altre release di Jordan, ci sono le Why Not, stiamo nel performance. Arrivano due paia, due colorazioni, scusate, non proprio due paia, due style. Giovedì, perché giovedì sarà il giorno della ribalta, dopo due settimane dove non arriva più un cazzo da Nike, giovedì arriva tutto. Arrivano due color di Why Not, molto belle, la scarpa sta andando veramente da Dio, 141 euro, secondo me, top player. 131. 141, la colorazione Zero Noise, sì, non so se le altre saranno a 131. Non so un cazzo. Poi giovedì arrivano anche le More Than Athlete, che era sicuramente un'altra domanda della gente. E anche le... Arrivano due colorazioni di Freak One. Ah, due di Freak One. Da quello che ho capito, le Soul Glow e le Multi? Anche no, secondo me le Soul Glow non arrivano. Oh, ok. Sono scettico su questa cosa. Sono scettico. O almeno una colorazione di Freak One. No, però anche fosse bene, la Multi arriva sicuramente, quello ho controllato, però se lo dice Kobe, allora sì. Non so se l'abbia detto, perché io ho detto... Se lo dice un po' il popolo, allora non mi fido. Detto questo, ovviamente ci dispiace, abbiamo ancora in arretrato la KD Hunt Pearl, che ci è stata confermata, ma non arriva. Non si sa perché. Cioè, appunto, Nike sta facendo un bel po' di casino. Ci sono dei misteri. Comunque le Mordellanatrix sì, arrivano. Hanno quella, come possiamo chiamare, overlay, bianca, nera e blu. Esatto. Molto bello, molto bello. Questa cosa che si possa intercambiare, questo rivestimento. E poi dovrebbe arrivare anche... Ci sono anche gli Sharpie, tra l'altro. E poi dovrebbe arrivare anche una Bread. O mi sbaglio, è la Kyrie che arriva a Bread? No, la Kyrie Bread ce l'abbiamo indietro, deve ancora essere spedita. Kyrie 6, ovviamente, Bread. Certo. Invece sabato, se tutto va bene, perché oggi è martedì, dovevamo controllare se le avevano spedite, sabato arrivano anche le Jordan 1 Satin Black. Sì, credo i ragazzi dicevano venerdì. Che in teoria non sembrano essere così ambite. Ecco. Però, come sempre, state sul pezzo, perché con le Jordan 1 non si sa mai. Invece le Colorway delle Why Not che arrivano, abbiamo appena detto, ne arrivano due. Una dovrebbe essere più chiara. Sì. Sul panna, grigetto, chiaro, sporco, con inserti neri e rossi e bianchi. Invece l'altra dovrebbe essere a base scura. Tutta nera, misto il bianco, dettagli oro. Però poca roba i dettagli. Hai visto il ritorno di Kyrie contro Atlanta? Sì, ho visto. Sì? Ovviamente sempre Kyrie e Irving, tanta roba. Sì. Un disastro. Gli hanno dato 35 punti. Una vergogna. Una vergogna. E' proprio un imbarazzo totale. E l'unica cosa è, boh, dopo la sua mancanza e quell'escalation incredibile di Spencer Deanwiddie, non so più cosa credere. Adesso riusciranno insieme a giocare, perché è venuto fuori veramente un gran giocatore da Spencer Deanwiddie. Allora, avremo le I-Promise? Credo che si intendano le Lebron. Ma che belle, le Lebron I-Promise. Tra l'altro c'è tutta una collezione di I-Promise. Non ho visto nulla. O almeno c'è una Air Force. Vabbè, comunque, molto molto fighe. Secondo me sì, le avremo. Ma, come sempre, Nike è un po' come Gesù, no? Non si sa cosa farà. Questa è un po' forte. Impone le mani e cambia tutto. Quindi è un po' strana la situazione. Federico, che ti sei messo quella faccina lì dopo quello che hai detto Luca? Non ti parlo più. Comunque, parlando sempre di Kairi, invece, le Kairi 6, Bruce Lee, io ho visto stamattina Tanta roba, sempre con il graffio, diciamo, l'artiglio. In teoria, con le Kairi dovevano uscire le Kobe, le Kobe 5, che sono originally released in the Bruce Lee Colorway, veramente molto molto. L'inglese ultimamente. Così, mi è piaciuta questa cosa, eh? Molto molto fighe. Vediamo se arriveranno le Kobe 5 Protro. Le Kairi sicuramente sì, le avremo. Come sempre, le date ormai... Ne sapete più voi di noi. Esatto. No, ma più che altro perché non si sa quando arrivano. E invece, secondo voi, i Bucks arriveranno in finale? Domanda che mi ha fatto pensare è il fatto che tra due settimane saremo a vedere i Bucks. Saremo a vedere i Bucks contro Charlotte. Sì, io neanche sapevo che voi erano Charlotte, tra l'altro. L'ho scoperto ieri. Charlotte, tra l'altro, ma... Tanto male. Quindi penso che sarà una partita di merda. A Parigi. A Parigi. Non so, tra l'altro, l'arena. Prima mi chiedevano in che arena sarà. Eh, la... Parigi-Bersi. La Accor Hotel Arena si chiama adesso. Comunque è molto vicino dove abbiamo l'hotel. Benissimo, top. Così. Ci si può andare a piedi. Ci si può sfondare di birra appena finisce. No, però. No, non si può dire niente. Comunque, figata, i Bucks primi a Est a mani basse, oserei dire. Stanno veramente spaccando. Sono una squadra davvero bella. Davvero completa. Bella da vedere. Non ci sono storie. Io ho guardato anche qualche partita. Ma se fino a ieri dicevi che... Gianni e Sant'Eto Kumpo non mi piace. Ah, ok. Ma è un po'... L'ammetto che quando un giocatore diventa così dominante è facile essere hater. Lo ammetto. Cioè, non è che... È facile. È ovvio che se diciamo Gianni e Sant'Eto Kumpo è dominante, sì, lo è. A me personalmente non fa impazzire il suo gioco. È un po'... No, non esagero dicendo è un po' come Lebron ai tempi perché Lebron è sempre stato superiore. Però io comunque odiavo, tra virgolette, anche Lebron all'inizio. Poi comunque adesso Lebron fa molto di più di quello che fa Gianni e Sant'Eto Kumpo. E sicuramente lo faceva anche dopo gli anni di Gianni nella Lega. Secondo me come giocatore completo non ci siamo ancora. Ha iniziato a tirare molto bene. Dovrebbe essere tipo al 40... No, 40 no. 30% buono. Da 3. Tira poco. Segna discretamente bene. Da 3. Jumper ancora da quello che ho capito e quello che ho visto non ce l'ha. Però quando penetra Butei, scusatemi, mi è scappato. Ragazzi, non c'è assolutamente storia. Allora, da una parte ti dico ricordati che vendi scarpe. E dall'altra ti dico che ti sei dimenticato di dire che andiamo a Parigi a vedere la partita dell'NBA. Bucks vs Hornets. Hosted by Puma. Hosted by Puma Hoops. Che tra l'altro, grazie a tutti quelli che mi hanno taggato, Puma Hoops mi ha ripostato nel feed di Puma tra le 5 migliori. Insomma, ha chiesto qual è il modello più figo. E ha preso noi il nostro post, il mio post, per le Ralph Samson. Ah, sì. Che è stato un modello fighissimo e in realtà non ha avuto molto seguito. Non molto, non molto. Però, però sì. Ma quanto se la sta passando bene Caruso? Caruso è il classico giocatore giusto in una squadra fortissima. Devo ancora votare allo Stargame tra l'altro. Ah, ricordati. Sì, comunque è un giocatore tanta roba. No, no, ma io non dico che sia scarso. È un buon giocatore. È chiaro che se quello capitava ad Atlanta... Assolutamente sì. Capisci. Bravo. Non era certo sotto i riflettori come adesso. Allora... Se si tagliasse quei cazzo di capelli, quello che resta dei capelli, quello che resta... Secondo me sarebbe molto meglio. Quando inizi a perderli, tirasi. È un classico. Ci sta. Jordan 4, Black Cat. Sì. Tasto dolentissimo. Perché dovete sapere... Aspetta, aspetta. Se posso dirla io, dovete sapere che se Luca ultimamente sta avendo, come dire, delle frizioni con Nike, soprattutto per le spedizioni, le scarpe che arrivano, non arrivano, non sappiamo cosa c'è, non sappiamo se sì, se no, eccetera. Con Jordan siamo a un livello... Siamo a un livello imbarazzante. Siamo a un livello proprio... Siamo a un livello... Siamo a un altro campionato. Bravo, bravo. È come serie D, serie A, capito? Non c'è minimamente storia. È come la promozione di 10 anni fa e la promozione di oggi. Che è un altro. È proprio... Allora, Jordan 4, Black Cat. Ce l'avevamo, era confermata, ce l'hanno cancellata. Non si sa. In teoria va riposizionata come quick strike, che sono cose di cui non ve ne frega un cazzo, non capirete niente. Ma giustamente ve lo dico perché ce l'avevamo, e quindi abbiamo detto tutti di sì. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Poi non ce l'avevamo più. E poi non ce l'avevamo più. E quindi è un po' tutto una scoperta. Siete con noi in un viaggio. Esatto. È come quando prendi una cosa, le chiavi, le metti in tasca. Poi guardi, non ci sono più. Non ci sono più. Che fine ho fatto? Scusa, ho visto... E ride. E ride. Ridono. E ridono. Vabbè. D2C, quindi direttamente da Nike al consumatore. Non si sa mai, ripeto, che possa succedere qualcosa. Però, da quello che sapevamo, Kairi 6 e Jordan 13, Chinese New Year, direct to consumer. Quindi Nike.com, Sneakers Up, etc. E anche Jordan 1 lo immagino. Però invece Jordan 34... Jordan 34... L'ho vista prima, Jackie mi ha detto come se fosse una cosa data per chat. Poi, ovviamente, non si sa cosa capiterà a Milano. Perché Milano e Barcellona e Parigi sono un po' fuori da tutte queste dinamiche. Gallinari con Adidas, pensamenti. Gallinari con Adidas, sempre stato, sempre lì. Ci sono novità. Non ci sono novità. Ha cambiato scarpa. Sta utilizzando la Harden volume 4. Finalmente una scarpa figa, secondo me. Perché, in generale, meglio della Provision, meglio delle altre che aveva finora. Considerando che è un giocatore dei migliori al mondo. Quindi direi che deve vestire la scarpa più figa che c'è. E quindi, tanta roba. Unica cosa, secondo me, è l'Harden volume 4 Camo. Che ha messo lui un paio di partite fa. Stanotte non ho visto cosa ha messo. Però, insomma, scegliamo delle colorway un po' più fighe. Proponiti come stylist. Eh, potrei farlo, ma... No, per fare lo stylist sai che... Ah, bisogna fare i corsi. Eh, c'è due corsi. Giusto, giusto, giusto. Lebron 17 Low è uscito a un'immagine, un leaks. Molto bella, l'ho passato nelle mie storie. Un leak dei leaks, perdonami. Un leak dei leaks. E non era male, secondo me. Assolutamente. Una colorway un po' insulsetta, quella lì. Quella sicuro. Come sempre, le prime colorway che escono fanno... Lo sappiamo. Schifo. Però, tanta roba, ovviamente, della Lebron 17 non ha praticamente nulla, se non l'Air Max nella parte posteriore, lo zoom davanti. Quindi, il tooling nell'intersuola, il resto è molto più vicino ad una Air Max vera e propria. Quindi, retro running, secondo me, rispetto ad una scarpa da basket. Ovvio che sarà una scarpa, come le precedenti, assolutamente consistent, ovvero molto molto valida. Qualcuno ci chiede, i negozi di sneakers a Bruxelles, io ero andato in quello in centro... Locker Room. Locker Room, bravo. Con il logo tipo NFL, vero? Giaguaro. Invece, sì, quello è proprio... Cioè, Jordan e sneakers in generale. Quello era molto bello. Sì, sì, molto carino, con tutte le piastrelle. Esatto. Carino, davvero. Ok, poi, 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 poi... Sono carico. Jackie c'è ancora, hai scritto tu? Sì, l'ho scritto io perché Jackie a volte passa inosservato, lo salutiamo. Pareri sulle... Ecco quella che mi avevi chiesto prima. Pareri sull'Adidas Pro Model, le stanno roccando in diversi, esempio la Vine e il Ciaccio. Bravo. Che poi, la Vine o la VIN? Sì, vabbè. La VIN, secondo me. Ravi tutti, poi. E il Ciaccio Rodriguez. Allora, la Pro Model di Adidas è un modello vecchio, rispolverato quest'anno. Secondo me è figo. È una bella scarpa, ha la punta classica della Superstar. Sì. E la parte posteriore è tutta in... cioè, in realtà è tutta la Tomaya in patent, quindi in pelle lucida. Secondo me è molto figa. È la classica scarpa che non si vende, però, eh. Il problema è che è la classica scarpa che se la prendiamo, ne dobbiamo prendere... Sparo numeri, ne dobbiamo prendere 100, ne vendiamo 20. E quindi è un problema per lo store. Io, se vi posso consigliare, se avete la possibilità, le beccate in giro, le potete provare, eh, provatela. Secondo me è valida. Oppure, se volete provare qualcosa di molto particolare, altrimenti c'è sicuramente di meglio. Anche perché la tecnologia è sempre quella, quindi è vecchia scuola. Eh, future colorazioni di Dame6 interessanti. Non abbiamo fotografato una. Sì, che si chiama Fire... Ma sì. È... Non lo so. È correlata agli aerei da... Sì, tipo Firefighters, ma non è quello. Fire... Firefest, no, quella è un'altra cosa. Fighterjet. Firejet... Sì, è tipo Fighterjet, ma non è Fighterjet. Vabbè, comunque... Comunque carini. Nera, la blanche messa Arden, perché non... Esatto. Non ha messo la Dame, ma c'è la colorazione correlata di Arden volume 4, la messa James Arden qualche notte fa. È molto bella, rossa, marron... verde, verdone. Sì, verdone. Con dei simboli gialli, appunto. Tra l'altro, la Arden ha la linguetta diversa dalle altre, non so se hai notato. È molto più fina, non è così tanto imbottita. No, non l'ho notata. Non l'ho notata perché quando sono arrivata ieri ho preso solo la Dame. Ah, ok. Non ho guardato la Dame. La Dame, secondo me, è una... Spitfire. Spitfire. Bravissimo. No, non me ne so ricordato io. No, non l'ho visto, non l'avevi letto. E... Cosa volevo dire? No, la Dame, secondo me, è una gran scarpa. Jovi Tom Tom ha già preso due in due mesi, quindi direi molto bene. Sta andando molto bene, la Rootless è quasi finita, quindi sta piacendo sicuramente. Unica cosa è larghetta di pianta, quindi se avete bisogno di una pianta larga, ci sta tutta, se avete una pianta stretta, cambiate modello, secondo me. Strettina. Strettina, è larghina. Strettinettina. Jordan 5, top 3, confermate a maggio, base nera, linguetta grape, mid-sol rossa, ce l'avremo? L'ho vista, secondo me ce l'abbiamo. Secondo me ce l'abbiamo, l'ho vista. Jordan 5 ce ne sono quest'anno perché è l'anniversario, quindi sapete che ogni tanto torna. L'anno scorso le 4. L'anno scorso le 4, quest'anno le 5. Dovrebbero uscire anche le 5 off-white per spingere un po' il mondo hype. Esatto, ci sono visto un bel po'. Lebron 17, I promise, lebron 17 infrared. Allora, le... Allora, I promise, secondo me sì. Ma c'è il verde, forse? Sì. Ah, ok, allora ho capito. C'è un... Sì. Sono molto particolari. Sì. C'è anche una coroncina, una corona sulla parte della linguetta, molto multicolor, con questa base turquoise. Turquoise. Un po' South Beach come mondo, ok? Quindi turquoise e viola, e pink. Ok, invece le infrared? Le infrared non so nulla. So che ci devono arrivare, ma non so quando ci saranno, non so se... Ma si sono già viste? Sì, sono già viste e sono semplici... Allora, da quello che ho visto io sono nere con i dettagli rossi infrared. Quindi niente di too fancy, ecco. Avremo in vendita il pacco doppio con le airship? No, ad oggi no. È un'esclusiva sportswear che avranno quindi solo i negozi sportswear molto fighi, molto alti. Eh, perdonate se vi schippo, ma non riesco a leggerle tutte. Comunque, Jordan 1 di febbraio, invece? Jordan 1 di febbraio? Beh, c'è la off-white in teoria che deve droppare, la gialla, molto bella secondo me, ma non ce l'avremo, ovviamente. Non mi ricordo se ce ne sono altre. Ah sì, la purple. Una sicuramente è la purple. Ok, mentre quella che esce questo sabato si chiama? Satin, black, quindi è tutta nera, midsole bianca, dettagli rossi e tutta satin. Non è hype in teoria, quindi non sarà resellabile, non sarà resellata. Sarà finalmente una Jordan 1 figa da avere in negozio che la gente può comprare. Parlando invece di Jordan, che piacciono molto a te, Jordan 3, UNC ce le avrete. Madonna. E anche le rosse. Eh sì, eh sì. Allora, le 3 UNC non dovevamo averle, ma... Pare. No, no, eh dai. Non si sa, te la fanno non usare. Perché dopo dici, dopo dici, no, ma guarda, ce l'abbiamo, lo so. E poi dopo arrivi e dici, eh no. No, vabbè, ad oggi ce l'abbiamo. Quindi, tanta roba, perché è una scarpa veramente molto figa. La Jordan 3 rossa, invece, che sarebbe University Red, Cement, black. Molto figa, esce insieme, in teoria al giorno di San Valentino, se non l'ho capito male, insieme ad una Univer... Gym Red. Gym Red University Red. Cement e black. Non si sa esattamente quale sia la differenza tra le due, a parte il rosso che è diverso, però la gente normale vuole sapere che cazzo cambia tra le due scarpe, ad oggi non si sa. Non si sa, hai dimenticato la Banned se esce? La Banned non esce, non... Ah, aspetta, ok, forse è la... Inversed... Inverted Banned. Esatto, che in teoria esce in 23.000 pezzi, però io queste cose, ragazzi, me le hanno chiesto veramente in tantissimi, non le so. A me sembrava che dovessimo avere comunque una Jordan 1 con del rosso e del nero, però io dicevo, col cazzo che è la Banned è impossibile. Magari è questa, però allora se ci arriva a noi questa, vuol dire che la news del 23.000 Paia è una fake news, quindi, boh, non si sa, ci aggiorniamo su quello perché c'è comunque tempo. Ok, ah, aspetta, negozi di sneakers a Londra, negozi di basket a Londra? Beh, oddio, a Londra ce ne sono tanti di sneakers? Di sneakers, ma di basket non c'è nulla perché è di mondo basket. Secondo me il negozio Puma ha tanta roba Puma. Sì, avevamo visto, ti ricordi, la Dover Street Market, no, dove cavolo è? Oddio, ho detto una cazzata, aspetta, mamma mia, vabbè, non mi viene in mente, eh, esatto, sì, sicuramente a Nike Town, Carnaby Street, bravo, sì, Nike Town trovi comunque i modelli perché comunque a Uso Woops c'era, però sì, non c'è un negozio vero proprio specializzato basket. No, sul basket non c'è nulla, ovviamente vai a guardare The Regal, che è il campo, è molto, molto figo. E chiedi, chiedi, ti daranno dei braccialetti, ti racconta la storia, ti fanno palloni, ti fanno fare qualche tiro. Esatto, tra l'altro Campo Jordan un po' abbandonato. No, dovevano rifarlo, dovevano metterlo a posto. Magari qualcuno è andato di recente, ce lo sa dire. Cosa volevo dire? No, poi vabbè, sneakers, food patrol ce ne sono un sacco, Dover Street Market, insomma, tutte quelle cose lì. Direi che ci siamo, sono 25 minuti, vuoi dire qualcosa? Allora, comunicazioni particolari, ma... No, questa settimana arrivano un sacco di scarpe. Sì, questa settimana sì, quello sì. Abbiamo caricato sul sito anche le nuove collezioni di abbigliamento, molto belle. Assolutamente. In negozio ancora siamo un po' spingendo i saldi, ma ormai... Beh, sui saldi bisogna sempre ricordare che sales are on, ci sono ancora saldi, ci sono ancora pezzi importanti, scarpe anche tecniche e non solo, sono molto scontate, escludendo quelle Super Limited, ma tutte le altre ci siamo alla grande con i saldi. Nuovi pezzi, come diceva il buon Frank, ce ne sono veramente tanti, anche delle collezioni City Edition, che stanno davvero spaccando. La canotta di Jamorant è già finita. Lo so. Quella di Jokic no, ma quasi. The Joker. È andata un botto anche quella che secondo me è dimagrito, sta dimagrendo. Stai anche personal trainer. Sta cercando di arrivare messo meglio in termini di peso per i play-off. Chiuso la parentesi The Joker. Occhio al sito che giovedì droppiamo le scarpe tecniche di cui parlavamo prima, quindi la LeBron, la LeBron stiamo parlando della Morden Athlete, le due Why Not. Tra l'altro 2,27 o mi sbaglio? La LeBron, non mi ricordo, sinceramente, ma non penso che sia un problema ormai. No, no, infatti. Quando ci sono quelle colorazioni lì, non gliene frega un cazzo a nessuno, il prezzo si prende e basta. Al massimo si rinuncia a una t-shirt e via. E poi, e poi, e poi, e poi, Freak One multicolor, bravo, e Jordan One Sabato, che sarà ad oggi rilasciata normalmente, quindi in store e online. Direi che abbiamo detto tutto. Noi ci vediamo venerdì per l'unboxing, dove non ci sarà Francesco, ma ci sarà sicuramente qualcun altro ad aiutarmi, perché tanto ci sono sempre io davanti alla camera, e quindi tu non servis a un cazzo. Non servis a niente. Sono io quello che è il conto. E io e te ci rivediamo a Parigi per la partita dell'NBA. Se ci siete, se ci sarete, scriveteci. Anche perché di solito in quelle occasioni c'è sempre una cena tra italiani. Esatto, bravo. Quindi ci si diverte, di sicuro. Grazie mille per il supporto e alla prossima.